Ma innanzitutto non vale come auto a soluzione, io ho fregato meno degli altri, quindi non dico io come Lega sono meglio di quegli altri perché quegli altri hanno fatto peggio, no io guardo in casa mia e penso perché ho cominciato a fare politica, io a 17 anni facevo il liceo classico a Milano, andavo di sera in bicicletta a mettere in giro manifesti, non perché avrei pensato che avrei fatto il segretario del partito perché puntavo allo stipendio il parlamentare europeo, come me tanta gente, per un'idea, per un ideale, io adoro fare politica, io sono orgoglioso di fare politica, la politica significa che ieri mi è arrivata la mail di un papà separato che grazie al contributo che ha avuto da Regione Lombardia può affittare un appartamento e guardare a testa alta suo figlio e incontrarlo nei weekend in cui ce l'ha a casa sua, per una norma che siamo riusciti con la politica, grazie alla politica, perché non è solo roba sporca la politica, la politica si occupa anche di sanità, sì, la politica incontra l'associazione dei genitori separati, dice tu Regione Lombardia dai 400 Euro al mese alle mamme e ai papà separati o divorziati come un minore a carico, questa è politica, non è solo quella che abbiamo visto prima nelle intercettazioni. Certo, gli stipendi in passato erano assolutamente esagerati, i rimborsi non erano controllati, a Bruxelles, Parlamento Europeo, da sempre, ti danno un euro, però se tu certifichi doveri con chi eri per le cene, noi dobbiamo addirittura portare le foto, se lo ricorderai, devi dire doveri con chi, quanti eravate, cosa hai mangiato, le foto, i documenti, non è che ti danno così, quindi se ovunque fosse portato questo limite probabilmente avremmo evitato tante cose. Certo, prendo un piccolo spunto di fiorito che io peraltro apprezzo perché viene in televisione e questo denota coraggio dal suo punto di vista, almeno però processate le cose vere, io per 15 giorni ho letto sul giornale che il figlio di Bossi aveva uno yacht, molti magari a casa saranno ancora convinti del fatto che il figlio di Bossi aveva uno yacht, non era suo, il piccolo problema, e questo lo contesto alla magistratura pesantemente, chi sbaglia paga, anche per un euro, non dico che allora la sinistra, non per i passi, però lo dico anche a Travaglio, ho sentito prima l'intervento gradevole che ha strappato applausi e sorrisi, però non è bello liquidare Forza Italia con Dudu, con la battuta su Dudu, io non sono difensore d'ufficio di nessuno, Berlusconi ha 38 televisioni per dire o fare quello che vuole, anzi noi come Lega spesso e volentieri siamo trattati peggio dalle televisioni del cosiddetto alleato che non dalla 7, per fare un esempio, però se alcuni milioni di italiani votano Berlusconi, non ce la si cava con Dudu o con Fiorito o con le intercettazioni di Girolam, quello che dovremmo recuperare è un minimo di rispetto, ma lo dico anche venendo dalle polemiche sul ministro Chienge di questi giorni, io oggi ho invitato... Però a quella teniamocela questa qui... Ma e chiudo, a un confronto pubblico, sereno, pacifico, sui contenuti, non sulle ostriche, non sullo champagne... La Chienge, lei l'ha invitato a un confronto pubblico... Assolutamente, sui temi, sui temi concreti...